Ciao, vi lascio subito al video e subito dopo news su The Avengers. Vi mancavano, eh? A dopo. La tavoletta. La mangio, la tavoletta. Signor Bressan. La zi Anna non c'è più. Ania. Ania Covacci. Io la chiamavo Anna, va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre? Cresceva la frequenza. Come dite voi ragazzi? Non sballo. Un'epifania. Un'epifania. Concentration. Mio nome presteso è Zoran Spazzapal. Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto. Ma credi che basti vincere quattro salami per farmi contento? Come fai a occuparti di un ragazzino come Zoran? Infletti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità. Grazie nipose. Dopo che il suo nome era stato ripetutamente citato nei rumors, ma senza risposte ufficiali da parte di Marvel, Samuel Jackson spiazza tutti e da conferma che Scarlet Witch in The Avengers Age of Ultron avrà il volto di... Elizabeth Olsen. Ebbene sì. Ulteriore conferma da parte di Latino Review è l'accordo siglato da Aaron Taylor-Johnson direttamente da Kick-Ass 1 e 2 per interpretare Quicksilver. The Avengers Age of Ultron arriverà in sala il 1 maggio 2015. E voi fateci sapere con i vostri commenti cosa ne pensate. Già che ci siete mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook FilmisNow e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!